ecco caro 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 passo caro passore io voglio farti vedere che sono in compagnia eccoci siamo qui in compagnia ecco vedi vedi prima 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 che arriva il negretto che poi si arriva il negretto e ci vede inquadrati nella stessa videocamera del vero è gelo l'ultima il peruno negre ecco vuoi fare ciao al passo ciao passo 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 lì devi guardare passo dove devi guardare passo passo lì ok ecco dirgli ciao al passo che dopo gli mandiamo il video ma possiamo anche metterlo sul canale quindi perché fa giochi strani ecco motivo in più per non aver voglia di entrare probabilmente ecco quindi bene possiamo anche dire ecco ci diciamo ciao anche a quei disgraziati del canale di youtube e anche i seguaci di notte la maestra delle lezioni famose lezioni bene ciao fanciulli aspetta che lo uso anche come prova e ricevuta è venuta è venuta a prenderlo esatto è venuta a prenderlo ed è qui ed è qui ecco prendilo ecco così ho anche la prova la prova documentale che avevo consegnato il libro oggi ciao fanciulli di youtube fatevi una vita ma fatevi una vita per stare sempre per youtube ciao fanciulli bello questo chiaro scuro così che chiariamo un po scuriamo ecco ciao fanciulli ciao ciao